Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi in anteprima assoluta ho uno degli ultimi device lanciato dal bellissimo Bren Chui. È stato progettato e realizzato per essere uno dei mini computer best buy intorno ai 300 euro. Il suo nome da battaglia è Minibux XN100. Ha delle specifiche veramente interessanti che andremo a analizzare lungo questa recensione, soprattutto tre che lo rendono letteralmente un device 3 in 1. La prima è sicuramente la cerniera perché è dotata di una cerniera che può andare a 360 gradi. Può essere utilizzato tranquillamente anche per appoggiarlo direttamente su una scrivania senza dover avere un supporto per poterlo utilizzare in verticale, per magari videochiamate o anche semplicemente per utilizzarlo in maniera più comoda. Come seconda caratteristica fondamentale è che ha lo schermo completamente touchscreen perché infatti come vi dicevo può essere utilizzato sia come tablet ma anche come mini computer portatile che ci porta alla terza caratteristica fondamentale. Infatti come vedete dal layout è dotato di Windows 11 per cui non ha Android come i classici tablet con il vantaggio di poter utilizzare tutte le funzionalità e i programmi esclusivi di Windows che normalmente in un tablet dotato di sistema operativo Android sicuramente non potrete utilizzare. Per quanto riguarda la recensione di oggi l'ho divisa in tre parti. Nella prima parte andremo ad analizzare il contenuto della confezione e anche tutti gli slot che troverete all'interno di questo XN100. Nella seconda parte andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche e nella terza parte andremo a fare assieme tutti i test, un bellissimo test gaming, un test di editing e andremo anche a testare la funzione slot HDMI per proiettare quello che vede questo computer direttamente sul mio televisore. E prima di partire con la recensione vi ricordo che se alla fine del video vi sarete anche voi innamorati di questo mini book vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video e se il brand mi invierà dei codici sconto anche quelli ve li inserirò nella descrizione quindi se per caso lo acquisterete avrete un ulteriore sconto. Detto questo mettetevi comodi lasciate un bel like iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing Per quanto riguarda la dotazione base all'interno del box che vi arriverà direttamente a casa oltre il bellissimo mini book troverete il cavo di alimentazione dotato di spina di tipo C e il manuale di installazione e se lo volete come accessorio potete anche acquistare la multiporta brandizzata sui che contiene al suo interno tre porte usb 3.0 lo slot per la micro sd e anche lo slot per l'hdmi. Per quanto riguarda il materiale adoro tantissimo questa texture abbastanza liscia ma non troppo così da darvi comunque un buon grip e anche il colore una via di mezzo tra silver e un grigio metallizzato mi piace veramente tanto. Per quanto riguarda gli slot il jack 3.5 e ben sette griglie di dissipazione veramente tante per un computer di queste dimensioni che è veramente molto piccolo e sottile dall'altra parte invece troviamo non una ma addirittura due porte usb questo invece il tasto di accensione e di spegnimento nella parte inferiore è presente un'altra griglia di dissipazione e quattro gommini protettivi per cui lo potete appoggiare tranquillamente su una superficie senza avere nessuna paura che vi si segni durante l'utilizzo e tra l'altro è anche dotato di una telecamera per cui può essere utilizzato tranquillamente anche per fare videochiamate eccola qua vi voglio mostrare anche da vicino la bellezza di questa cerniera che si gira a 360 gradi guardate che spettacolo non avrete bisogno di cover per avere il vostro schermo in maniera verticale per cui può essere utilizzato normalmente come tablet oppure se lo girate dall'altra parte utilizzato come classico laptop da ufficio direttamente con la tastiera e ora andiamo a analizzare più in profondità le sue caratteristiche tecniche a partire dal sistema operativo che come vi ho già anticipato è dotato di windows 11 home display ips ultra sottile e super luminoso come vedete dalla telecamera da 10,51 pollici in full hd plus 1920 x 1200 pixel processore intel elder lake n100 che raggiunge un clock massimo di 3400 gigahertz gpu intel ultra hd di dodicesima generazione 12 giga di ram 512 di spazio archivazione che non è affatto male per un computer di queste dimensioni e per i più tecnici vi svelo anche che è dotato delle ddr5 nettamente più performanti delle più obsolete ddr4 e concludo dicendovi che è dotato di bluetooth 5.2 wifi di sesta generazione e compatibile con la ricarica rapida da 45 watt che vi permette di ricaricarlo completamente da zero in meno di due ore ed eccoci qua nella dashboard di windows 11 ho già collegato il mouse ma come vi dicevo prima potete anche utilizzarlo col touchscreen per cui è veramente molto comodo come vedete dalle impostazioni sono le classiche di windows 11 in cui trovate i giochi le personalizzazioni potete regolare la luminosità del display per quanto riguarda l'archiviazione ha una memoria di 512 gigabyte ovviamente non tutti utilizzabili perché c'è una parte della memoria che è occupata dal sistema operativo e ora andiamo a fare un test di navigazione proviamo anche a utilizzare la tastiera direi di andare su youtube così possiamo anche controllare la qualità sia dell'audio che del video di questo fantastico minibook adesso andiamo direttamente a navigare con le mani direi che come scelta opto per questo qui che è l'ultimo che ho caricato andiamo ingrandire a 16 noni guardate la qualità è veramente molto luminoso tanta roba per uno schermo che è veramente ultra sottile guardate la differenza rispetto al mio dito è veramente impressionante per cui per delle dimensioni così ridotte hanno fatto veramente un ottimo lavoro non ci sono né lag né imperfezioni e anche l'audio tutto sommato mi ha sorpreso non sarà l'audio più potente al mondo ma come qualità ci siamo per cui per quanto mi riguarda se lo utilizzate molto su youtube o per guardare serie su netflix o però in video potrebbe essere veramente il minibook che fa per voi e ora partiamo con la carrellata dei test partendo proprio dal test gaming come gioco ho scelto asphalt nitro uno dei giochi che uso di più quando devo testare dei nuovi dispositivi ma ora concentriamoci sulla gara per quanto riguarda anche in questo caso la luminosità e la grafica non è male proviamo anche a vedere se ci sono lag durante incidenti lo provo a buttare fuori con tutta la forza guardate anche in questo caso non ci sono stati lag proviamo anche la super acrobazia ovviamente questo non è un computer da gaming però nonostante sia piccolissimo non abbia il processore idoneo per fare dei giochi super elaborati per giochi classici come può essere un asphalt nitro mario kart e gli altri classici giochi che uno normalmente utilizza su un portatile o un minibook da ufficio devo dire che non ho riscontrato nessun difetto non mi ha mai buttato fuori durante tutte le ore di gioco per cui anche per video giocare a giochi non troppo pesanti per quanto mi riguarda è consigliato e dopo aver fatto a sportellate con asphalt nitro procediamo anche col test di editing ho già preparato alcuni file adesso li andiamo a mettere direttamente dentro elaborato sia foto che video che audio così giusto per metterlo in difficoltà partiamo con l'audio che è una canzone poi direi di mettere in un video che dura otto minuti e come ciliegina vado inserire anche delle foto così da creare la terza linea di editing ora andiamo a esportare e vedremo quanto ci impiegherà a fare tutta l'elaborazione ecco qua è partito per adesso ancora non accelero il timelapse siamo già addirittura al 2% dopo neanche 5 secondi già al 3 per cui devo dire che è veramente molto rapido per un video in alta definizione su un computer così piccolino che ovviamente non nasce come computer da editing mi è veramente sorpreso per la rapidità con cui è partito adesso vi lascio il timelapse e alla fine vi svelerò quanto avrà impiegato a fare l'elaborazione elaborazione completata usciamo da film ora andiamo a vedere il nostro elaborato mamma mia questo era uno dei primi video che facevo col vecchio canale e come tempo di elaborazione ha impiegato meno di 3 minuti veramente tanta roba per cui può essere veramente comodo anche per i content creator le sue dimensioni sono veramente molto ridotte ovviamente non è adatto se lavorerete file da 4k o superiore però se come me è registrato in full hd è veramente un'ottima risorsa da portarsi in viaggio senza tornare a casa con l'ansia e il peso enorme di avere 400 o 500 gigabyte da dover editare e come ultima caratteristica che potrebbe essere utile ad alcune persone che magari hanno bisogno di un computer piccolo da portare al lavoro perché hanno spesso delle videoconferenze o delle proiezioni grazie a questo adattatore sempre brandizzato sui potrete collegarci tantissimi dispositivi dotati di porta usb tipo a ma soprattutto anche l'hdmi da poter collegare come vi dicevo o un proiettore o addirittura a un televisore così da fare visionare tutti i vostri file documenti video e powerpoint direttamente sul grande schermo e ora lo andiamo a testare ed eccomi qua in sala ho già collegato la multiporta direttamente all'hdmi e se seguite il filo vedete che l'ho collegato direttamente al mio sony bravia adesso andiamo a accendere il televisore e vediamo se la connessione sarà andata a buon fine ed eccolo là guardate che spettacolo tutto quello che si vede da questo mini book viene direttamente riportato sul tv non trovo veramente punti deboli è un computer completo con cui potete giocare navigare e anche utilizzarlo per fare videoconferenze se vi è piaciuta questa recensione mi raccomando lasciate un bel like e iscrivete al canale così sarete sempre aggiornati ai nuovi contenuti di tecnologia come questo e vi ricordo prima di salutarvi che se siete interessati a questo fantastico sui mini book x n 100 vi lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video vi ringrazio ancora per essere arrivati fino qui vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao iscriviti al canale iscriviti al canale